Replica, allora, fu l'unica azienda che ci riusciva a fornire e garantire già un pacchetto di due software, il gestionale interno per la fatturazione e il stock system, il gestionale per il magazzino, già configurate tra di volte. I risultati oggi che ci hanno portato, grazie all'aiuto di stock system, sono quelli di avere aumentato la produttività, sicuramente ben oltre il 20%, sicuramente abbiamo avuto una riduzione degli errori, degli reclami da parte degli enti, l'inventario real time, l'aumento del numero di preferenze gestive, che ha poi il fatto di poter gestire quello che stiamo facendo oggi, ovvero poter gestire gli ordini tra i diversi canali di vendita, che è una cosa abbastanza articolare, soprattutto quando si pensa al fatto che i clienti che, ad esempio, vengono in azienda sul posto, devono avere una priorità diversa dagli altri, quindi la possibilità di gestire delle priorità di credito. Siamo un'azienda in espansione, in crescita e ci sono sostanziali, anche i lavori, un magazzino in crescita e ci sono, grazie a questa organizzazione, grazie al programma, ci sono molto prospettive di poter ancora crescere e fare di più.